Grande fratello VIP 2 Furiosa lite tra Cristiano Malgioglio e Serena Grandi I due artisti, la scorsa notte, sono stati protagonisti di una bruttissima lite, che ha destabilizzato i precari equilibri di Tristopoli, il motivo scatenante e il diverbio, poi sfociato in una furiosa litigata. È stato il fatto che a quanto pare Serena Grandi russa moltissimo durante la notte, impedendo a Cristiano Malgioglio di riposare bene. Il 72enne artista e paroliere, infatti, non riesce a dormire e si è lamentato con l'attrice riminese, che ha poi invitato, ad andare a dormire in un altro vagone. Serena Grandi si è rifiutata, allora Malgioglio, ha chiesto Giulia Dell'Ellis di fare scambio di posto. L'ex corteggiatrice di uomini e donne ha accettato, ma la voce, è poi giunta alla Grandi, che si è arrabbiata moltissimo con l'amico. Subito dopo, è scoppiata a piangere, correndo in camera a sfogarsi con Giulia e Daniele Bossari, che l'hanno confortata. I due le hanno suggerito di non badare molto, ai modi bruschi di Cristiano. Una crisi di nervi per Serena, che pare soffrire troppo la casa. È davvero probabile, infatti, che nella seconda puntata di domani, lunedì 18 settembre, chieda di uscire dal reality.